Musica 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 Che era un cosmo, la spazza caminina, gioca caminina, questo è quello che ho fatto io alla nostra età Quindi, credetemi, siete molto molto fortunati Sto in ricerca, mi aiutavano tanto il fatto che eri processi d'università e siccome mio fratello era a Milano, erano tanto che eri processi d'università a Milano. Visto che solitamente voi siete in scena quasi ogni sera? Più o meno sì. Come riuscite a trovare la stessa energia ogni sera per fare sempre la stessa cosa? Diciamo che con dei personaggi come i nostri, che sono bellissimi, non è difficile trovare una motivazione, ecco, è bello. C'è qualcosa che ti fa rabbiare e ricordarti che sei stanco perché è sempre meglio parlare delle cose in un momento in cui non sei così, sei più riposato. Perché siamo stanchi morti e perché viviamo in alcuni momenti tipo H24, soprattutto durante l'allestimento, tante ore di prove. Diciamo che la stessa di capoccia, Michael. Vai, Stami. Come hai stato quando mi è sempre da gara di Stati Uniti? Allora pensa che io aspettavo da un anno e mezzo di sapere se sarei stata io oppure no. che sarò. Ti diridi. Cam Camili, Cam Camili, sforza camini. Alle tre felici pensieri dorò. Cam Camili, Cam Camili, sforza camini. La salta è con voi se la mano mi dò. Che un bacio mi dà, felice sarà. Giurastica artistica, quando avevo più o meno la nostra età, dai 6 anni ai 15 anni. Grazie per la visione!